Un paio fa passava a venire un pullman di turisti che venivano da Tavormina ed erano chiesti dell'Inghilterra. In Inghilterra, che lingua si parla? L'inglese. L'inglese. E' come un paese stretto, c'è la strada cacchiana e poi c'è a fare la manovra, a peggiorare, perché c'è una strada solo al paese. La strada cacchiana e si scende. Poi il nostro paese è un paese dove si arriva. Non è il cagliuccio passo, piggiera, nautra, banna. Dopo non c'è più niente. E' la fine del mondo. Cioè tu arrivi già, c'è un paese, c'è un paese, quindi non c'è niente. E' proprio l'ultimo paese. L'ultimo paese del mondo. Esatto. Poi c'è un ruolo autista con questo pullman di qualche sessanta tedeschi d'Inghilterra, che c'è, inglesi. D'inglese. D'inglese, sì. E non poteva girare, non poteva girare. Non poteva girare perché c'era un bar di Don Pippino Badesicchi che c'era la tettoia, la tettoia po' sulle, che si abbia a mezza strada, no? Perciò c'era un pericolo che si portava a tettoia, io c'era qualcosa, e c'era tutta la ritirata. D'inglese, quando c'è trai questo, giravo, e accalavo finissimo, mi diceva, gubai, gubai, gubai. D'inglese, gubasti di che tu trai a tenda io, a lunga, oggi miro con un gubaccio. Sì, sì. Sì, gubai.